Le diverse parrocchie si sono organizzate per far vivere i momenti della Settimana Santa in assoluta sicurezza e nel rispetto dei protocolli anti-covid. Vediamo con Don Bruno Lancuba, parroco della Chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Agropoli, l'organizzazione delle diverse celebrazioni dal primo aprile, giovedì santo, fino alla Pasqua di resurrezione del 4 aprile. Siamo giunti al cuore della vita liturgica della Chiesa e del cristiano. Inizia la grande e santa settimana con al cuore il triduo pasquale. Giovedì vi è la messa in cena domini, la prima celebrazione è alle 18.30, la seconda alle 20. Chi vuole il pane benedetto deve portarlo da casa perché per motivi di contenimento del coronavirus non è consentito distribuire il pane, giustamente dobbiamo fare la nostra parte. Poi venerdì la prima azione liturgica con la via Crucis alle 15, l'ora nona, i Vangelici narrano è avvenuta la morte di Gesù e poi la seconda azione liturgica con la via Crucis alle 19.30. Sabato manteniamo l'unicità della veglia pasquale alle ore 19.45. La domenica di Pasqua invece le celebrazioni sono molteplici, alle 8, alle 9.30, alle 10.45, alle 12, alle 18.45 e alle 20. Finché la maggior parte delle persone possano partecipare, partecipare all'interno dell'edificio sacro. Chiaramente i numeri sono limitati 125, quando abbiamo raggiunto quel numero gli altri parteciperanno dalla piazza dove ci saranno gli altoparlanti e dove verranno fatte anche le benedizioni e la distribuzione dell'eucaristia. Ci siamo organizzati affinché possiamo vivere con gioia e in sicurezza il cuore della nostra fede che è il triduo pasquale. A tutti quanti voi faccio gli auguri di una Pasqua significativa anche nelle condizioni date, anche in questa pandemia. Anzi, proprio in questa pandemia deve emergere ancora di più la speranza cristiana che si fonda sulla passione morte e risurrezione di Gesù presente operandi in mezzo a noi. Auguri.